Una carica della polizia schierata a difesa del Consiglio dei Ministri egiziano ha causato al Cairo la morte di due persone. Secondo fonti mediche, una delle vittime sarebbe stata colpita da un proiettile, mentre l'altra sarebbe stata travolta da una camionetta militare. La violenza è esplosa quando le forze dell'ordine hanno tentato di disperdere i manifestanti che da ieri si sono raccolti davanti alla sede del governo. Il sit-in era iniziato con l'arrivo di un gruppo di manifestanti provenienti da piazza Tahrir, dove ieri hanno dimostrato in 100.000 chiedendo l'uscita di scena del Consiglio Supremo formato dai vertici militari. Appena questa richiesta è stata rinnovata davanti al palazzo del governo, la polizia militare ha iniziato a lanciare gas lacrimogeni, scatenando la bagarre. La tensione in aumento preoccupa molti osservatori, soprattutto perché, dopo aver incaricato un ex-premier della Costituzione di un nuovo governo, il Consiglio Supremo intende confermare lo svolgimento delle elezioni politiche previste per lunedì prossimo, nonostante il clima.